Un peccato, l'ennesimo, parte tra i fuochi pirotecnici un pineto che quando imbrocca la strada giusta è infermabile. Poi il grafico diventa irregolare, lo spreco altissimo. A Brescia si accumula l'ottavo K.O. consecutivo, peraltro senza guida tecnica dopo l'esonero Tomaselliano e con l'infortunio a Di Silvestre il più regolare di tutti. Certo porti un punto a casa da un terreno così proibitivo come quello Lombardo e contro un super clapwick dai tanti punti Ace 21 e 4 più tre muri vincenti, oltre Cominetti con 22 e altri 4 Ace e si applaudi un po' tutti, in primis Frac con 19 punti e 67 in percentuale, poi guardi i muri punto e capisci la differenza. 15 Brescia, 4 hub. Vedremo cosa cambierà con il nuovo tecnico, ma la fiducia nel valore del gruppo non solo resta ma cresce. La classifica che piange non c'entra nulla con un tal potenziale. L'impavida perde ancora, non vince il palasport all'aprile scorso quando contro il Fano conquistò la promozione della 3. Complice stavolta la super serata di un porto viro pilotata dall'ex Felice 7, che affiancato da un gruppo coeso e costante ha sbaragliato con un pesante 3-0 i vari tentativi ortonesi di riportare a casa almeno un set, impresa vicina nella terza frazione, quando da un più 5 si è scivolati fino al 21-25 conclusivo, tra delusione e rassegnazione. In A2 femminile la Serdeco cede 1-3 col Bologna, ma è tutt'altro che fortunata. Domina e vince la prima frazione, trascinata dalla solita Tosic con i suoi 29 punti, mostruosi quanto quelli della Felsinia Fiore, ospiti che sul fil di lana strappano 2-7 i vantaggi beffando un sestetto che ancora una volta rinvia l'appuntamento, con la vittoria fra tanti troppi rimpianti. In B si riprenderà la prossima settimana.